Affrontare la giornata con slancio vitale, mantenendo l'equilibrio tra corpo e mente, è il risultato del ben d'essere. La filosofia di Solgar che da più di 70 anni si dedica alla ricerca e alla produzione di integratori di altissima qualità, come Fitorodiola, a base di Rodiola Rosea, una pianta tonico adattogena, utile in caso di stanchezza fisica e mentale e a sostenere il normale tono dell'umore.